Dopo aver inciso due 45 giri con Chris Stewart alla batteria, nell'estate del 1968 la band entra in studio per preparare l'album, approfittando delle vacanze estive dal college. A Stewart è nel frattempo subentrato Jonathan Silver. È il produttore, un altro Jonathan, Jonathan King, a operare l'avvicendamento alla batteria. Il compito di dare il triste ben servito a Chris tocca l'amico Mike Rutherford, ma non deve faticare troppo. Stewart sa di non essere all'altezza della situazione.